Buongiorno a tutti. Oggi proviamo ad applicare il teorema di Pitagora al rettangolo. Dunque ricorderete bene che il teorema di Pitagora può essere applicato solo ed esclusivamente a un triangolo rettangolo. Ecco che una volta che noi abbiamo disegnato il nostro rettangolo possiamo tracciare una diagonale. Ad esempio la diagonale CDB. Questa diagonale divide il nostro rettangolo in due triangoli rettangoli congruenti, ognuno dei quali ha per dimensioni le dimensioni del nostro rettangolo. Qui si capisce bene il collegamento. Se B, questo lato è la base del rettangolo, risulterà essere il cateto, in questo caso cateto maggiore, del mio triangolo rettangolo arancione. H, ossia DA, è l'altezza del mio rettangolo e diventa cateto minore del triangolo arancione. D, ossia domodosso la Bologna, è la diagonale del rettangolo, mentre nel mio triangolo rappresenta l'ipotenusa. A questo punto siamo pronti ad applicare tutte e tre le formule del teorema di Pitagora a seconda delle necessità. Qui viene indicata come si calcola l'ipotenusa, chiamata con la lettera A, ma sarebbe l'ipotenusa, ricordiamoci che è uguale alla radice quadrata della somma dei due cateti elevati alla seconda e così via. Cioè l'importante è capire che, tracciando la diagonale all'interno di un rettangolo, otteniamo due triangoli rettangoli in cui è possibile applicare il teorema di Pitagora. E andiamo subito a fare un esempio pratico. Immaginiamo di dover risolvere un problema il cui testo dica Un rettangolo ha la diagonale che misura 41 cm e la base lunga 40 cm. Trova l'altra dimensione del rettangolo e il suo perimetro. Allora, qui c'è già il disegno con la diagonale. Noi possiamo iniziare a lavorare sul triangolo ADC, che come sappiamo è un triangolo rettangolo, di cui AC rappresenta l'ipotenusa e noi conosciamo la sua lunghezza. D-C rappresenta il cateto maggiore. Pertanto, la prima richiesta, ossia AD, corrisponde a trovare il cateto minore. Applichiamo il teorema di Pitagora e possiamo quindi scrivere che l'ipotenusa alla seconda, quindi 41 alla seconda meno un cateto alla seconda, 40 alla seconda, vale, eseguendo tutti i calcoli con la calcolatrice, l'uso delle memorie, come vi ho insegnato, il risultato è 9 cm. A questo punto siamo pronti per trovare il perimetro del rettangolo. 40 per 2 più 9 per 2, ossia 80 più 18 uguale 98 cm. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma come capisco quando è che devo utilizzare il teorema di Pitagora parlando di un rettangolo? È il problema stesso che ce lo fa capire, che ce lo fa intuire? Nel problema se viene nominata la diagonale di questo rettangolo o se ci viene chiesta di trovare la lunghezza della diagonale, questa è la giusta indicazione per capire che lì dentro sarà necessario lavorare utilizzando il teorema. Un altro problema, infatti, potrebbe essere quello dove, dato un rettangolo, conosciamo il perimetro, una dimensione e dobbiamo trovare la diagonale. Quindi troveremo la seconda dimensione e questo trovare la diagonale è l'indizio che ci fa capire che occorre utilizzare il nostro teorema. Per adesso è tutto, vi chiederei di riportare sul quaderno proprio l'immagine di un rettangolo diviso dalla diagonale e colorare bene la zona in cui si applica il teorema. Così vi verrà spontaneo immediatamente di tracciare la diagonale. Grazie a tutti per l'attenzione e ci risentiamo presto.